Oh, ti vuoi anche l'uccelli? E vai! Ora facciamo vedere un bambino E' lo più grande, come se mai ci giochiamo stasera con il bambasano Che vuole? Uno o due? No, no, dai pure, dai pure Dai, vieni allora Dai, vieni allora Vieni qua Hai capito subito? Ad occhione che tu hai Ma dov'è? Eric Qua Eric, qua Vieni Ah Ha preso male lo scalino Ok Eric Aspetta Si ce ne aveva ancora pochino Vai, richiamolo qua Eric Vai Eric Vai Eric Ha preferito c'è Wow Bravo Grazie Prego Vai, ciao Eric Eric Arriva, arriva Con calma arriva E Eric Ah 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 Naturalmente sono tali astuti che se uno glielo forse dice, beh io a scherzo Non è un problema Eric 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 Ah Ehi, andiamo Dai Forza Ah qua Eric ora sicuramente inizia anche a avere caldo perché il suo piumaggio nero ha anche il calore che è una cosa impossibile poi fino a due minuti fa pioveva Eric, andiamo? dai faccio un po' andiamo che si ripresca un po' vieni andiamo che andiamo alla fine bravi poi oggi pomeriggio ho finito il corteo verso le 5 facciamo uno spettacolo facendo volare la poiana finalmente posso dare anche voi e si mando a tirare a carne grazie